Franco Germano, allenatore della Luzzese, una partita dai due volti, una Luzzese tosta e cinica all'inizio della gara, nel primo tempo, poi soprattutto nel secondo siete un po' calati e è arrivato poi il pareggio dell'Acri. Un pareggio, sicuramente arrivato nei minuti finali, non accolto benissimo anche da lei. Ma purtroppo sembrerà strano, ma è il quarto rigore consecutivo che sbagliamo, che ci poteva portare un po' di più punti in classifica. È chiaro che io oggi non ho nulla da rimproverare, i miei ragazzi hanno giocato, secondo me, una grande partita e forse alla fine meritavamo l'intera posta, perché l'Acri, con tutto il rispetto, non è che ci abbia imbenzito più di tanto. Anche se noi, di contro, non è che abbiamo fatto, però i miei ragazzi oggi hanno messo una voglia incredibile e poi penso che alla fine meritavamo l'intera posta. Domenica prossima farete visita alla Gittanovese, formazione che insieme all'Isola si giocherà poi il campionato di eccellenza. Una trasferta sicuramente difficile? Ma sulla carta diciamo che è proibitiva, però noi ce l'andiamo a giocare come facciamo sempre di solito e poi è sempre il campo quello che emette il verdetto finale. Allora mister, un pareggio che permette ai suoi di continuare nella striscia positiva di risultati. Sono sette i risultati utili consecutivi con tre gol subiti, due come ricordato anche all'inizio del collegamento ad Isola Caporizzuto e oggi il gol contro la Luzzese. Secondo lei il risultato giusto del pareggio? C'è qualcosa che ha da recriminare anche i suoi? Anche nel primo tempo non è apparsa un acri lucido soprattutto in alcuni frangenti del primo tempo? Sicuramente sì, è stata una partita dai due volte. Il primo tempo ha meritato la Luzzese, poi il secondo tempo siamo venuti fuori. Credo che oggi il primo tempo siamo entrati i contratti, non riuscivamo a giocare bene. Poi abbiamo preso il gol al quarantaseesimo, quindi ci ha un po' tagliato le gambe. Poi il secondo tempo abbiamo avuto una grande reazione, la squadra ha dimostrato veramente di saper giocare. Abbiamo avuto tantissime occasioni. Poi alla fine, ripeto, io il rigore non l'ho visto. Ho soltanto visto il mio giocatore sposato che stava rinviando e ho visto che è caduto a terra e gli ha dato il rigore. Comunque io credo che il risultato oggi sia giusto. Per quanto riguarda l'acri, veniamo da sei risultati utili. Adesso questo è il settimo. Se continuiamo così, credo che alla fine possiamo toglierci qualche soddisfazione. Ribadisco, è una squadra molto giovane, l'età media 23-24 anni, per cui oggi sono molto contento.